Sabato 12 ottobre Como ancora sotto i riflettori mondiali grazie a un evento di grande ciclismo torna all'appuntamento con il Giro di Lombardia, arrivo a Como dopo 243 km un'edizione particolare per il ricordo di Felice Gimondi. Il percorso presentato oggi a Bergamo segna un ritorno alla tradizione dopo che lo scorso anno la chiusura per lavori della Val Fresca aveva costretto gli organizzatori a modificare il tracciato in territorio comasco. I ciclisti percorreranno la salita del Ghisallo, il muro di Sormano con pendenze fino al 25%, la strada verso Civiglio e quindi la Val Fresca e la via verso Sanfermo della Battaglia. L'arrivo sarà poi sul Lungolago. Al via ci saranno i ciclisti di 25 squadre e la corsa garantirà all'Ario una vetrina mondiale con quasi 200 paesi di tutto il mondo collegati. Lo scorso anno la diretta era stata seguita da più di 16 milioni di persone. Sono personaggi importanti dal punto di vista sportivo, per il momento stanno ancora, chiaro c'è un mondiale di mezzo, c'è ancora un po' di tempo, stanno facendo, come dire, stanno dando delle adesioni di massima, previsto sicuramente Nibali. Si parla probabilmente della presenza del vincitore del Tour, che è un altro corridore che va fortissimo in salita. Quindi, insomma, pretendenti tantissimi e sarà sicuramente un grande evento sportivo. Dopo l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia, il ciclismo regala nuovamente a Como una giornata di grande sport. Dopo cinque mesi da una grande manifestazione che ha interessato tutta la città, di nuovo il ciclismo sarà protagonista. Como si è abituata, ama questo ciclismo che porta a festa, tradizione, sport, cultura. Per cui noi siamo assolutamente molto orgogliosi di essere di nuovo protagonisti di questo arrivo così prestigioso. Il Giro di Lombardia 2019 sarà dedicato a Felice Gimondi, il campione bergamasco scomparso nell'agosto scorso. Era un percorso che si sviluppava sulle sue strade di allenamento, nella sua terra, e molti appassionati che poi ritrovava il sabato mattina lungo allo strada mentre disputava la gara erano amici magari di scuola, ex compagni di corse, quindi era un'atmosfera particolare per lui. Il fatto che sia stata dedicata a papà questa edizione ci rende pieni di orgoglio. A livello dirigenziale negli ultimi anni veniva pure a dare il via, quindi credo che sia un legame quello tra Giro di Lombardia e Felice Gimondi molto forte.